Io sono di sinistra ma in questo momento sono soprattutto un sindaco. Le cose che succedono nelle nostre città dipendono anche dalle scelte che si fanno in Europa e come sarà l'Europa dipende anche da quello che sta succedendo e succederà in Grecia. La qualità di servizio alla persona, gli investimenti in politiche sociali e per il lavoro, la qualità della vita nei nostri comuni dipendono molto da come sarà l'Europa del futuro. Noi abbiamo bisogno di un'Europa diversa per governare meglio le nostre città, un'Europa democratica e solidale dove le persone vengano prima dei profitti e della finanza. Per questo motivo la lotta del popolo e del governo greco parla di noi e del futuro di tutti i cittadini europei. Per questo motivo manifestiamo il sostegno a Tsipras e al suo governo.